Da due giorni sono senza acqua corrente, il tutto a causa di un debito che ammonterebbe circa 113 mila euro. Si tratta delle 63 famiglie residenti nei condomini dello ex IACP o Giarca in città. Si tratta in particolare di otto palazzine in piazzale Livorno, piazzale Siene e via Siracusa. Sono tante le famiglie con diversi problemi a carico. Ci sono anziani, disabili, bambini e persone malate. Siamo in condizioni pessime, siamo stanchi di questo tira e molla da parte dell'acquedotto pugliese che tende a tagliarci l'acqua ogni 20 giorni si sfoga un inquilina. La storia quindi si ripete due mesi fa. Infatti lo stesso problema, l'acqua mancò per quattro giorni ma in quel caso gli inquilini hanno potuto usufruire di un autobotte, questa volta invece no. Per i residenti questo nuovo debito non è allora imputabile. Dei 113 mila euro mancanti, 70 sono legati alla rottura della tubatura della condotta dell'acqua, un guasto tecnico che persiste da qualche anno e che deve essere liquidato, secondo l'amministratore Fabio De Carlo, da un ente pubblico che sia l'Arca Sud o il Comune di Lecce, non dagli inquilini. Dai residenti anzi c'è la spinta a risolvere i soliti nodi coprendo le prime due rate del 2015 ma al momento uno sforzo che pare non bastare.